Ti saluto con la pace del Signore, buongiorno e buon mercoledì 21 di agosto 2024, anche oggi siamo pronti per ascoltare la parola di Gesù Cristo che questa mattina viene rivolta ai nostri cuori in questi termini. Gesù dice chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo o una donna avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia e chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Testo che possiamo trovare nel Vangelo di Matteo capitolo 7 il versetto 24 e 26. Il titolo di questo messaggio, il titolo di questa meditazione biblica è questo, Blockhaus. Nella lingua tedesca, Blockhaus, trova corrispondenza nel termine italiano casa matta con cui si indica una piccola struttura militare difensiva a protezione delle persone occupanti o del materiale in essa presente. Inizialmente costruite con tronchi sostenuti da travi, in seguito furono realizzate in cemento armato soprattutto durante la prima e la seconda guerra mondiale. Circa 28 mila case matte per lo più a più ampia esagonale denominate fill box furono costruite in Inghilterra nel 1940 in previsione di un'invasione tedesca. In Francia durante la seconda guerra mondiale i tedeschi costruirono numerose Blockhaus sulle spiagge della costa atlantica, destinate ovviamente ad impedire uno sbarco militare. Erano massicce, imponenti. Ne decenni successivi furono spesso invase dalla sabbia, il che ne causò la progressiva distruzione. Le case matte erano solide ma costruite sulla sabbia. Gli architetti sanno che è possibile costruire sulla sabbia ma solo se non vi è erosione causata dall'acqua come afferma l'Evangelo. La casa costruita sulla sabbia regge fino a quando non arrivano le inondazioni. Ora questa immagine ci mostra che possiamo apparire spiritualmente solide affinché non arriva la prova a fare un test rivelando così se il vero fondamento della nostra vita sia la sabbia o la roccia. La sabbia simboleggia tutte le opinioni correnti, correnti passate, instabili, mutevoli, messe in moto dal vento delle difficoltà. La roccia invece rappresenta all'insegnamento di Gesù, l'inviato del Dio eterno. Egli è la rocca. Vogliamo che la nostra vita sia solida sul piano spirituale? E allora confidiamo nel Signore Gesù. Solo allora potremo avanzare nel cammino della vita con la sicurezza basata su cosa? Sul nostro Signore e con l'umiltà che nella nostra condizione umana ci è assolutamente necessaria per poterci approcciare al Dio eterno creatore del cielo, della terra e dell'intero universo. Riflettiamo su queste parole e meditiamoci in questa giornata. Lo Spirito Santo saprà cosa consigliarci meglio nella nostra vita. Ti abbraccio calorosamente e ti do un caro saluto nell'amore del Signore. Buona giornata. Buona giornata.